Giornate meravigliose qui durante l'estate a Provincetano per visitare anche il Parco Naturale delle Dune. Uno scenario davvero favoloso, insolito, bellissimo, naturale, pieno di emozioni da vivere a bordo di queste jeep che ti portano in questo safari in mezzo alla natura. Si arriva con queste jeep laggiù, fino in fondo al mare, dove si possono ammirare paesaggi favolosi, l'oceano e la sua maestosità e poi per finire, volendo, all'ora del tramonto, si può gustare una saporita aragosta in questa dimensione davvero straordinaria.